Una mattina mi sono svegliato alle sette e mezza e avevo in testa 17.9. È un ambiente, è un mondo, è un luogo di confronto. C'è questa visione di insieme che si contrappone al pensiero solitario. Non segue le regole consuete della Big Band e questo ha un impatto immediato sulla musica. Ci sono molti apporti in questa orchestra che però coesistono tranquillamente all'interno dello spettacolo. Superb! Ciao! 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 Ciao!